al trentacinquesimo i bianconeri vanno in vantaggio sul calcio di rigore per questo atterramento di boni ecco un passo dentro l'area ad opera di tagliaferri tira platini e batte paradisi con destro secco e angolato è l'ottavo della ripresa sguscia bene rossi nelle maglie difensive irpine ma ferroni lo atterra calcio di rigore platini va al tiro ma si ferma perché paradisi è di parecchio fuori dei pali lo bello ammonisce il francese e platini riduncia al tiro lasciando rincarico a rossi paradisi intuisce la traiettoria e salva ventinovesimo punizioni di tagliaferri testa di lucarelli e tocco decisivo di diaz che pareggio trentaseiesimo calcio di punizione per i bianconeri platini vede un varco libero e realizza con assoluta precisione 2 a 1